buongiorno penarello verde nell'orecchio e chissà quando perderò questo penarello verde sarò distrutto che male buongiorno oggi parliamo di una parola che è molto ma molto strana la parola è far fetched far fetched usiamo la parola far fetched molto per descrivere per esempio le trame dei film e cosa vuol dire vuol dire un po quando una trama un po forzata un po improbabile un po poco convincente ok oppure possiamo descrivere che ne so una storia che qualcuno ci racconta john's story was too far fetched to be believable quindi la storia di john la storia che ci ha raccontato john era troppo improbabile troppo tirata troppo forzata per essere credibile the theory sounded bizarre and far fetched quindi la teoria suonava sembrava bizarre quindi strana and far fetched poco credibile tirata